Allora Vittoria Baldino, noi abbiamo sentito il sottosegretario Buffagni fare un invito che ha creato un po' di polemiche sui giornali, vale a dire il vicino di casa che vede che appunto il suo vicino prende il reddito di cittadinanza e sa che non ha diritto, ce lo venga a dire. Qualcuno l'ha visto come un invito alla delazione, lei condivide? Ma intanto diciamo subito che nel momento in cui una persona abusa di uno strumento non fa un dispetto allo Stato ma lo fa a chi avrebbe diritto a riceverlo al posto suo, quindi sottrae un diritto ad un'altra persona, quindi tutti devono sapere che in quel momento stanno fregando il prossimo e non lo Stato, non soltanto lo Stato, prima cosa. Seconda cosa, ci sono delle sanzioni importanti nel caso di illusione. Ma lei è d'accordo o no? Cioè voglio dire, se lei ha il vicino, ma benvengano le segnalazioni. Benvengano le segnalazioni, quindi lei è d'accordo nella... Certo, benvengano le segnalazioni perché da che mondo in mondo l'Omertà non è mai stato un valore in questo paese. Quindi se c'è una persona che ritiene, ha buoni giustificati i motivi di ritenere che il suo vicino stia abusando di uno strumento, perché dovrei condannare chi decide di segnalare? A questo proposito io vorrei farle vedere un breve video che ho preso dal blog delle stelle, se ce lo potete far vedere e poi ritorniamo sempre su questo discorso. Non ci sarà modo di lavorare in nero, né tempo per stare sul divano. Anzi, la figura del navigator sarà fondamentale perché ti seguirà costantemente nel tuo percorso quotidiano di ricerca del lavoro, standoti vicino e segnalando se ci sono reticenze o irregolarità. Chi non rispetta questi impegni perde il reddito. Chi fa il furbo e presenta documenti falsi o lavora in nero rischia fino a sei anni di carcere. Allora, reticenze o irregolarità? Allora, mi spieghi bene, se il navigator ha in carico una persona per settore di reddito di cittadinanza, questo navigator incontrandolo si rende conto che ha un tenore di vita che non è compatibile con l'ISE? Secondo lei dovrebbe denunciarlo? Cioè questo è il compito del navigator? Tra i compiti del navigator c'è anche quello di segnalare delle anomalie nella gestione del processo. Quindi sicuramente dovrà segnalare, credo ad INPS, che poi è l'ente che materialmente eroga il servizio, che sussistono delle anomalie. Per questo noi diciamo tante volte che chiaramente non è la soluzione, però il reddito di cittadinanza potrebbe anche far emergere delle distorsioni che altrimenti non emergerbero. Quindi il navigator sarà anche un controllore dei requisiti dell'ISE? Il navigator è una sorta di coach, come esiste anche in Gran Bretagna, è il coach nell'ambito del... Sì, però qui parliamo anche di una persona che dovrebbe fare anche il lavoro che fa la guardia di finanza. Ma in realtà mi sembra abbastanza logico, perché se il navigator segue passo passo il percettore del reddito di cittadinanza, credo che sia l'unica, cioè la persona maggiormente deputata a poter segnalare eventuali distorsioni. Perché se io ho di fronte una persona che vive in estrema povertà e mi rifiuta, ad esempio, le prime due proposte di lavoro, che io potrei ritenere anche congrue per la sua professionalità, allora mi faccio una domanda. Così come se io in un incontro tra il navigator ed un... Questo mi arriva in Ferrari. Mi arriva in Ferrari o in Porsche, dico ma come fa questa... Chiaramente immagino che la persona in questione sia furba e non lo faccia, però questo è proprio un esempio di scuola. Vorrei sentire Cristina Greco su questo e anche Danzi. Il punto è proprio questo, questa professionalità del navigator non è chiara. Ora, io sinceramente come amministratore pubblico, come istituzione, mi aspetto uno Stato che sia in grado di fare i controlli incrociando i dati, avendo delle banche dati che dialoghino fra loro e certo non mi posso basare su chiedere segnalazioni ai vicini di casa. Questo proprio mi sembra un sistema non condivisibile, a mio modo di vedere. Sono d'accordo. Il navigator, ma io parlo per gli operatori dei centri. Gli operatori dei centri per l'impiego, che sono professionalità, che comunque già lavorano nei nostri centri, non hanno certo nelle loro competenze quella di controllo che è delegata invece agli ispettori. Quindi bisogna fare un raccordo forte tra segmenti diversi della pubblica amministrazione. Questo raccordo deve funzionare ed è proprio questo. Secondo me si sta cercando di trovare risposte semplici a problemi complessi, per non dire complicati. Quindi noi dobbiamo...